Presidente di Pancrazio, la regione Abruzzo vicina al Venezuela, ai cittadini del Venezuela che stanno soffrendo la carestia e le violenze di un governo sanguinario? Soprattutto la comunità abruzzese e quindi anche la regione vicina a questi fenomeni che non si devono più ripetere, quindi a tutela e a garanzia dei diritti umani. Oggi qui a testimoniare tutta la contrarietà da parte anche dell'intero consiglio regionale e quindi della comunità abruzzese, questo incontro con Mamma Rosa, così chiamata simpaticamente da tutti, per questa sua battaglia che porta avanti a difesa dei diritti dell'intera umanità. Loro hanno presentato a Parlamento europeo filme e dimostrazioni di circa 70.000 casi di violenza verificati, questa è una cosa che bisogna fermare e quindi anche la solidarietà soprattutto del consiglio regionale deve essere espressa in maniera netta e chiara, a tutela dei diritti che sono diritti di tutti quanti gli uomini, di tutte le donne di questo nostro mondo.